Ben trovati a tutti, l'obiettivo di questo intervento è quello di approfondire le vicende che hanno portato nel dicembre del 1939 alla nascita della delegazione di assistenza agli emigranti ebrei, nota come DELASEM, la più grande organizzazione ebraica di soccorso attiva in Italia durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. In estrema sintesi, la DELASEM si è occupata di creare una rete di assistenza per venire in aiuto dei profughi ebrei che scappavano dal nazismo utilizzando l'Italia come paese di transito per emigrare principalmente oltreoceano nei paesi europei non occupati o in Palestina. Di coloro che furono considerati dal regime fascista stranieri ebrei a partire dal settembre del 1938 e degli ebrei internati nei campi fascisti subito dopo l'ingresso dell'Italia in guerra il 10 giugno del 1940. I punti di riferimento per approfondire questo argomento sono principalmente due. Lo studio, a partire dal 1920, dei comitati ebreici di assistenza che hanno preceduto la nascita della DELASEM e la politica anti-ebraica nei confronti degli stranieri ebrei portata avanti dal regime fascista in Italia a partire dal settembre del 1938. Per quanto riguarda i comitati ebreici di assistenza, è necessario ricordare il Comitato Italiano di assistenza agli emigranti ebrei di Trieste, nato agli inizi degli anni 20 su proposta delle comunità di Venezia e Trieste all'interno del Consorzio delle Comunità Israelitiche Italiane, con l'obiettivo di offrire assistenza all'emigrazione ebraica proveniente dall'Europa orientale e diretta soprattutto in Palestina o oltreoceano. Ora, cosa si intende per assistenza? Come è possibile esumere dallo statuto, il comitato si impegnava nel sostegno all'ottenimento dei documenti richiesti per la partenza, nel controllo sanitario degli emigranti, nella gestione del servizio di trasporto bagagli e, per quanto possibile, nell'offerta di alloggio e refezione per chi fosse in attesa della partenza, come dimostra questa foto che ritrae adulti e bambini ebrei a Trieste nella sala mensa della casa di accoglienza per i migranti. L'attività di questo comitato durerà fino al settembre del 1943, quando i nazisti occuparono la città di Trieste ed iniziarono gli arresti e le deportazioni. Fondamentale fu anche il contributo del comitato di assistenza agli ebrei profughi dalla Germania, che nacque a Milano nell'aprile del 1933 per venire in aiuto agli ebrei che fuggivano dalla Germania nazista. Gli sforzi del comitato erano principalmente impiegati in una raccolta fondi che serviva a finanziare il vitto e l'alloggio dei profughi ebrei, oltre che i loro spostamenti, in molti casi indirizzati a Trieste e nelle principali città portuali. Dopo l'annessione tedesca dell'Austria nel marzo del 1938, il nome del comitato cambiò in comitato di assistenza per gli ebrei profughi, quindi non più solamente ebrei profughi dalla Germania. Per quanto riguarda la legislazione anti-ebraica contro gli stranieri ebrei del regime fascista, i punti di riferimento sono il reggio decreto legge del 7 settembre del 1938, che riguarda i provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri, e poi quello del 17 novembre 1938, dove sono contenuti i noti provvedimenti per la difesa della razza italiana. Nel decreto legge del 7 settembre si stabiliva, dalla data di pubblicazione, il divieto agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo. La revoca della cittadinanza italiana si è ottenuta posteriormente al 1 gennaio 1919 e l'obbligo per coloro che al momento della pubblicazione del decreto si trovavano nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo e che avevano iniziato il proprio soggiorno dopo il 1 gennaio 1919, di andarsene entro sei mesi, allo scadere dei quali, se ciò non fosse avvenuto, sarebbero stati espulsi. Nel successivo decreto legge del 17 novembre 1938 vennero esclusi dall'espulsione coloro che, anteriormente al 1 ottobre 1938, avessero già compiuto il 65esimo anno di età o avessero contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. In seguito a queste disposizioni antiebraiche, nell'atuno del 1938, in Italia vi erano circa 3.100 ebrei stranieri autorizzati a mantenere la residenza, mentre circa 8.100 erano soggetti all'obbligo di lasciare il paese entro il 12 marzo del 1939 e circa 900 persone divennero apoliti perché persero la cittadinanza italiana che avevano ottenuto dopo il 1918. Nonostante gli sforzi del regime fascista, che durante i sei mesi precedenti alla minacciata espulsione ordinò anche arresti ed interrogatori per indurre il maggior numero di ebrei stranieri possibile a lasciare il paese, e anche se chi ne ebbe la possibilità continuò a lavorare fino al giorno della partenza pur di ottenere il denaro necessario ai visti e per i biglietti d'imbarco, successivamente al 12 marzo del 1939 erano rimasti in Italia circa 4.000 individui per i quali non venne messa in atto, e neanche lo sarebbe stata in futuro, alcuna espulsione di massa. Ciò avvenne per una serie di motivi come ad esempio la mancanza di disponibilità da parte dei paesi di immigrazione ad accogliere più di un certo numero di profughi ebrei e poi la lentezza delle pratiche burocratiche per ottenere i documenti necessari alla partenza. È chiaro comunque che l'intenzione del governo fascista di eliminare la presenza di ebrei stranieri dal territorio italiano non si arrestò. Lo dimostrano il divieto di lavoro, entrato di fatto in vigore a partire dal 12 marzo del 1939, il divieto degli ingressi per soggiorno del 19 agosto del 1939 nei confronti degli ebrei tedeschi o provenienti dalla Germania, polacchi, ungheresi, romeni e dal 24 ottobre slovacchi, e poi per queste stesse persone, oltre che per gli apoliti, il divieto per il transito del 18 maggio del 1940. Nel novembre del 1938 il comitato nato 5 anni prima per aiutare gli ebrei che fuggirono dalla Germania nazista decide di ampliare il suo arco di azione anche verso gli ebrei italiani che erano stati colpiti dalle leggi antiebraiche e per questo cambierà di nuovo nome in comitato di assistenza per gli ebrei in Italia, noto come Comasebit, i cui principali obiettivi per alcuni aspetti molto ambiziosi si possono ricavare dallo statuto e sono la raccolta di dati statistici sulla condizione degli ebrei nei territori italiani, la ricollocazione professionale di tutti coloro che in seguito alle disposizioni antiebraiche avevano perso il lavoro e poi la creazione di scuole di arti e mestieri e di scuole pratiche di agraria e ancora l'assistenza all'emigrazione. Il comitato ebbe solo nove mesi di vita, fu costretto a chiudere per ordine del governo fascista tra l'agosto e il settembre del 1939. La sua attività fu troppo breve per portare a termine gli obiettivi che si era prefisso, schiato però comunque per migliorare le condizioni di vita degli ebrei che si trovavano nei territori italiani e, in totale contrasto con gli obiettivi del governo, collaborò la creazione di correnti di fuga ebraiche dall'Europa centrale verso l'Italia e da qui verso la Francia. La forzata chiusura del Comasebit ci porta a fare alcune considerazioni sul fatto che, dopo la promulgazione delle leggi anti-ebraiche, il rapporto del governo fascista nei confronti delle organizzazioni ebraiche di assistenza era ormai cambiato. Il fascismo non aveva più intenzione di dare spazio a singoli comitati di assistenza al cui interno, in alcuni casi, operavano personaggi dal noto passato antifascista e che agivano fuori dal controllo dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane. Dobbiamo infatti ricordare che l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane era l'ente che rappresentava gli ebrei italiani e le comunità di fronte al governo fascista, secondo il reggio decreto del 30 ottobre 1930 che riguarda le norme sulle comunità israelitiche e sull'unione delle comunità medesime. Per cui quando Dante Almanzi, per molti anni alto funzionario del Ministero dell'Interno, arrivato fino alla carica di prefetto e vice capo della polizia, venne nominato Presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane nel novembre del 1939, dovette preoccuparsi di creare un ente che da un lato proseguisse l'attività di assistenza verso gli ebei profughi e apoliti presenti in Italia e dall'altro ricevesse l'autorizzazione e l'appoggio da parte delle autorità fasciste, che avrebbero tratto il vantaggio di essere sollevate da oneri burocratici, organizzativi ed economici nella gestione dell'emigrazione ebraica. Infatti la DELASEM avrebbe beneficiato anche di aiuti provenienti da enti internazionali come l'Ibru Immigrant Aid Society e l'American Jewish Joint Distribution Committee. Il risultato di questa operazione fu la nascita della delegazione di assistenza agli emigranti ebrei, nota come DELASEM nel dicembre del 1939. Un ente creato dalla stessa Unione delle Comunità Israelitiche Italiane e delegato all'assistenza all'emigrazione, che avrebbe svolto la sua attività, vedremo adesso insieme sotto quali forme, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. A dirigere questo ente, in qualità di delegato, fu nominato l'avvocato Lelio Vittorio Valobra, ex combattente decorato della Prima Guerra Mondiale, iscritto al partito fascista fino alla sua forzata esclusione a seguito delle leggi antiebraiche e da poco nominato vicepresidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane. La sede principale della DELASEM venne stabilita a Genova, la città dove viveva Lelio Vittorio Valobra e che ospitava un porto di grandissimo rilievo, oltre ad importanti compagnie di navigazione. Furono nominate 21 rappresentanze che venivano proposte direttamente dalle comunità ebraghe, in modo da acquisire il maggior appoggio possibile. Nel gennaio del 1940 venne raggiunto un accordo operativo con il Comitato di Trieste che mantenne una parziale autonomia. Altri importanti uffici si trovavano anche a Roma, Firenze e Milano. Ora, gli obiettivi principali della DELASEM erano due. Facilitare l'immigrazione dall'Italia degli ebrei stagneri che si trovavano nel regno e che riversavano in gravi condizioni di povertà e offrire a queste persone l'assistenza necessaria durante il periodo di permanenza in attesa della partenza. Per ottenere ciò, la delegazione, nel limite delle sue possibilità, avrebbe provveduto ad offrire ad esempio sussidi per il vitto e l'alloggio, assistenza nello svolgimento di pratiche burocratiche necessarie per la partenza, assistenza per il diposito bagagli e l'imbarco nelle sedi portuali, cure mediche, offerta di abiti medicinali e molto altro. Come è noto però, al momento dell'ingresso dell'Italia in guerra, il 10 giugno del 1940, il governo fascista intraprese la politica dell'internamento legandola alla normativa antiebraica. All'epoca, a seguito di 10-11.000 partenze e 5-6.000 arrivi, erano rimasti dai 3.500 ai 4.000 ebrei non autorizzati a risiedere in Italia. Il 15 giugno del 1940 il Ministero dell'Interno dispose il rastrellamento degli ebrei stranieri appartenenti a stati che fanno politica razziale. In seguito a tale disposizione furono arrestati tutti gli ebrei tedeschi, polacchi, ex-cecoslovacchi, ex-austriaci ed apolidi presenti in Italia per essere poi inviati nei campi di internamento, il più grande dei quali fu Ferramonti di Tarza in Calabria oppure in altre località destinate per l'internamento libero. Di fronte a questa situazione, la DELASM si impegnò a rendere la vita degli internati meno dolorosa possibile, agendo su diversi fronti, ad esempio sia da un punto di vista materiale, con l'invio di sonvenzioni in denaro, di indumenti o medicinali, con la gestione della posta e del deposito bagagli e molto altro ancora, sia da un punto di vista religioso tramite l'impegno per ottenere che alcuni rabbini potessero portare conforto religioso agli internati, soprattutto in occasione delle ricorenze ebraiche e poi anche attraverso la ricerca dei membri di famiglie disperse nel tentativo di riuscire a riunirle. A questo punto, prima di concludere, vorrei sottoporre alla vostra attenzione due documenti che riguardano proprio l'opera di assistenza della DELASM nei confronti degli internati ebrei. Nel primo documento che ho anonimizzato, un rappresentante della DELASM scrive a nome del delegato l'avvocato Lelio Vittorio Valobra, in data 1 dicembre 1941, all'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, mettendo la lettera all'attenzione del presidente dell'Unione Dante Almanzi. L'oggetto della lettera è internati ad Arzier, in provincia di Vicenza. Leggiamola insieme. Ultimamente abbiamo spedito al nostro corrispondente di Arzier, signor, un assegno circolare di lire 1000 per l'assistenza agli internati di colare. In data 23 ultimo scorso, il signor ci comunica che il municipio di Arzier non ha voluto consegnargli la nostra lettera raccomandata in attesa di disposizioni da Vicenza. Vi saremo particolarmente grati se vorrete intervenire tempestivamente presso le autorità superiori affinché la somma di lire 1000 sia immediatamente consegnata al signor e poi eseguono i ringraziamenti e i saluti. In questo secondo documento è sempre un rappresentante della Telasan, a nome del delegato l'avvocato Lelio Vittorio Valobra, a scrivere all'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, in data 29 agosto 1941, con oggetto Festa di Capodanno 5702. Leggiamola insieme. Ci preggiamo accudervi copia di una domanda presentata alla reggia questura di potenza per essere trasmessa al competente ministero per ottenere il permesso di celebrare la festa di Rosh Hashanah, cioè il Capodanno ebraico, e Yom Kippur, cioè il giorno dell'espiazione. Questa domanda è stata firmata da circa 50 ebrei internati. Vi saremo grati se volete appoggiarla presso le autorità competenti affinché diano tempestivamente il permesso domandato. Sarebbe bene ottenere dal ministero anche il permesso di regarsi a potenza per l'occasione per quegli internati nella provincia in questione. E poi seguono i saluti. Anche se è difficile produrre delle stime precise, è possibile affermare che tra il 1939 e il 1943 l'assistenza all'immigrazione della Telasem coinvolse circa 5.000 persone, la maggior parte delle quali avevano trascorso periodi più o meno lunghi di permanenza nei luoghi di internamento. A questo punto io credo che l'obiettivo di fornire una estrema sintesi dell'operato dei principali comitati ebraici di assistenza in Italia, a partire dal 1920 e delle vicende che portarono alla nascita della Telasem si è stato raggiunto. È chiaro che gli argomenti da approfondire per un tema così ampio sarebbero moltissimi. Le biografie dei protagonisti che hanno portato avanti le attività di assistenza, i costanti sforzi per cercare i fondi che non erano mai sufficienti a rispondere alle necessità di assistenza, la storia dei campi di internamento e in particolar modo di Ferramonti, l'attività svolta nei territori soggetti all'autorità militare italiana, il periodo di lavoro in clandestinità durante l'occupazione nazista e i due ultimi anni di attività della delegazione nel dopoguerra e molto altro ancora. Il mio augurio, rivolgendomi soprattutto a coloro che non conoscevano l'esistenza dei comitati di assistenza né della Telasem, è proprio quello di aver piantato un seme che generi la curiosità di approfondire questi temi a partire dagli argomenti di cui abbiamo parlato. A questo punto io vi ringrazio e vi mando un caro saluto.